La vedo veramente brutta su stage, ma la vedo brutta su stage per qualunque personaggio di Little Mac Guardate con il dash attack, 12 danni F tilt F smash Smash su scudo che giustamente è una pressure della madonna e non è a max range, non è un'idea Ancora Ancora, il down tilt connette in tante cose 46% nei primi 20 secondi di gioco Si assolutamente, Little Mac ragazzi se stanno i piedi per terra mena come un fabbro Che porta, è letteralmente la casa migliore, mena come il fabbro E vediamo che Xuri è stato un attimo preso inizialmente alla spavista da questa velocità Si infatti Piano piano penso che inizierà a cercare sempre più di Kio Punch pronto Tenerlo fuori off stage, chiaramente Kio Punch che è ancora carico È ancora carico, incredibilmente Tentativo di read Io l'ho aspettato la read Epica finita male Non lo sto usando, non ho intenzione di tarlo Prova a prendere i due frame, non che la fa Forward throw, no, up throw Prova la qui Ancora Kio Punch Che l'ho ancora Incredibile Si, ha ucciso senza chi Ed è tilt, che uccide a 520 No, non se ne è fregato niente Lo sta tenendo per mettere pressione all'avversario Infatti lo sta tenendo E lo perde proprio nel momento Però Però La stocca la presa Assolutamente, assolutamente Tra l'altro effettivamente dice Va bene, ok, il recupero dei name di Little Mac Purtroppo off stage è quello che è Ma non è che sia neanche così facilmente aggardabile Adesso, Ridley effettivamente ce l'ha qualche occasione Un nail grosso quanto una casa Bellissimo, guardate quanti danni Che può permettersi di buttarlo fuori Però, porca miseria È veramente, veramente pesante E ancora Che la fa? Che la fa? Che la fa ragazzi Bellissimo Ovviamente stiamo parlando di un personaggio Che questo Stiamo parlando di qualcuno Che lo conosce bene Quindi sicuramente non si fa problemi A recuperare a piacimento Side B E a trovare la seconda stock di 3 Mamma mia, ma ragazzi Entro soli 2 minuti 32 di Fsmash con tutta la rig del mondo Che succede? Questa 54 con 3 colpe ragazzi Siamo in 2 Uh, tentativo di 2 frame Guardate quanto sta Sta cercando di fare una rig dopo l'altra Attenzione che io punch Che io punch Uh, peccato Sulla Roll Stavolta utilizzato subito Molto prima dell'occasione Prima Guardate quanto aspetta Mamma mia, è stato infilzato Ma quanto Quanto sta andando bene C'è da dire Bravo Xfri Che lì Sta veramente Ha avvitato una serie di potenziali read Pesantissime E sembra che Che Medoris stia pazzando veramente A raffica E abbia intenzione di Di metterle davvero Davvero una dopo l'altra F tilt Guardate come tiene Contro Mamma mia Cerca di sfruttare la debolezza di Mac Per afferrarlo Ha provato la gimpata Ragazzi non è entrata Chiaro Ha recuperato da lì in basso Non me l'aspettavo mai Non viene punito la Mezzo Di mezzo centimetro Penso Sì infatti era Calcolata molto bene Vediamo se riuscirà a trovare Occasione Con una serie di combo Molto buone Ma E F tilt ragazzi Anche un tilt Chiude il primo game Mamma mia ragazzi Siamo così All'1-0 Ma la percentuale di botte In questo match A questo incontro Quante C'è da 1 a 100 Eh Sì 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 Sono contento Sono contento di averlo qui A giocare con noi Posso dirlo Ora che l'ho visto Posso dire sono contento Voglio vederlo ovviamente Queste sono solo le fasi di pulso Ragazzi Queste sono solo le fasi di pulso Abbiamo tutto Dopo che è tutta la top 8 Tutto il tempo del mondo Per vedere questi giocatori Quindi Porca miseria Non abbiamo fretta Insomma Perché è strano Ti dicono Guarda Viene qualcuno Che gioca Little Mac Veramente bene Tu hai Una carta di Firmidic Little Mac Veramente bene E non è che no Little Mac Veramente bene Esattamente Quella che c'è Tanto Ganlix Fa un Ricorda le opzioni Tramite la chat Le Twitch Axuri Telepatia avanzata Questa è una tecnica Dei Marchigliani L'hanno Ah L'hanno sperimentata lì L'hanno sperimentata lì È giusto L'hanno brevettata Mamma mia Come mena Molto 042 In un batter d'occhio Però Però Recupera subito Sì 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 Ma Axuri Ha dimostrato Di saper mettere Quando trova L'advantage Saper mettere Un paio di cose Il problema è che Trova lo stavantage Cioè Entraci Perché Little Mac È anche veloce Finché sto Che vede per terra È forte e veloce Cioè non c'è niente Da dire Hyper Armor Su parecchie mosse Stavendo molta difficoltà Mamma mia Sto da in tilt Da un tilt Into side B Mi pare true Sul bordo Stavendo una difficoltà A recuperarsi Ha preso una quantità Di danni Finora Pesantissima Tra l'olta quel side B Che uccide molto presto Non aspettavo così presto Si prende un fair Ma c'è ancora Questo forse Questo up B Che non snappa al bordo Potrebbe essere occasione Per Ridley Siamo ad esempio Di un down smash Di un foro smash Ma ovviamente Deve essere ben temato Vediamo se riuscirà Edgeguard Arleo E recupera alto Proprio per evitare Questa situazione Se lo aspettava Incredibile E non c'è niente da fare È true Sì Me l'immaginavo Dopo tutte le volte Che l'ho vista Jab Ragazzi Pressione sullo scudo E qualcosa si è preso Non punisce Come vorrebbe Dalla massima distanza Evidentemente Non è punibile Ma tu come se ne vada Dall'altra parte Mamma mia Che però Non è ancora abbassata Per uscire Ma che figo Vive ancora Sembra È riuscito a recuperare Lo stage Ma come lo dico Nidoris non gli lascia Un attimo di tempo Bravissimo Proxuria Non debordere E non ha intenzione Di lasciarlo Secondo libero Ragazzi Che io punch È quasi pieno Mamma mia A 28 con una smash La stock Vediamo E che io punch È cancellato Da un tilt abbastanza Per eliminarglielo Comunque Xuri non demorde Sta andando avanti Assolutamente Assolutamente Nonostante sia Veramente Un duro Un duro incontro Non si lascia È al bordo È questa cosa È questa Pressione che mette Midoris al bordo È veramente Veramente Pericolosa Qui giustamente Prova di recuperarlo È stato Però una Xuri ad aspettare Però tanto Ha tre stock Quindi Che frega Il tentativo Che stava Da un smash Che gli cambia Sta cercando Di aspettare Il più possibile Perché se prende Eccola qui Ancora Con la smash Chiude così Questo game In un 2 a 0 2 a 0 Per Midoris Con Little Mac